ben a tutti che mi sono xvm02 e oggi siamo in questo vlog durerà pochissimo raga però è solo che dire una cosa importante a voi ragazzi che mi seguite voglio dirvi auguri un grande bacio a tutte voi ragazze ea e niente ragazzi e dopo più tardi uscirà una live che la farà x gaming 98 infatti come vedete adesso non c'è non vi dico che però vedete dopo lui e niente ragazzi ci vediamo prossimo vlog come sempre un bel pollice in su alcuni auguri a voi ragazze grandissimo bacio ci vediamo al prossimo